Ciao, in questo video ti presento il piano marketing innovativo per hotel e bed and breakfast dove all'interno ci troverai l'analisi di mercato professionale ed è ispirato al modello imprenditoriale di Walt Disney. Questo video è per titolari di hotel e bed and breakfast, direttori di hotel e bed and breakfast. Scarica qui sotto il piano marketing gratuito che puoi adattare al tuo hotel oppure al tuo bed and breakfast. Prima di iniziare a presentarti il piano marketing innovativo che si basa sull'analisi di mercato professionale ed è ispirato al modello imprenditoriale di Walt Disney, ho due domande per te. La prima domanda è, per vendere le tue camere ti affidi le OTA? Sai benissimo che le OTA ti erodono dal 15 al 25% del fatturato. Se vai ad aggiungere i costi variabili come food and beverage e vai ad aggiungere i costi fissi, cosa ti rimane della vendita di quella camera? Seconda domanda, per vendere le camere del tuo hotel o bed and breakfast ti affidi ad agenzie che lanciano continuamente offerte sui social? Ecco, se procedi in questo modo attiri nel tuo hotel o nel tuo bed and breakfast clienti basso spendenti. Sono i clienti più difficili da gestire, sono quelli che sono sempre scontenti e rischi che ti lasciano delle recensioni negative. Chi sono? Mi presento, mi chiamo Paolo Bacchini, sono un imprenditore, ho lanciato una start-up nel mondo dell'organic food, l'ho fatta crescere e nel 2020 l'ho venduto a un fondo svizzero. Nel 2023 ho seguito una catena di hotel aiutandoli a passare da 7 milioni a 11 milioni di fatturato, grazie che cosa? Al piano di marketing innovativo che si basa sull'analyse di mercato professionale. Quale dovrebbe essere l'obiettivo di un titolare o un direttore di un hotel o di un bed and breakfast? Riempire la propria struttura con clienti alto spendenti, che sono disposti a pagare un prezzo premium perché l'hotel ha creato un prodotto o servizio perfetto in funzione delle loro esigenze. Come fai ad ottenere questo risultato? Per ottenere questo risultato devi basarti su un'analisi di mercato professionale che ti permette di capire perfettamente il tuo cliente, capire quali sono i suoi desideri, i suoi bisogni e creare un servizio perfetto e su misura per lui. Lo scopo fondamentale è quello di creare clienti referral, cioè sono quei clienti che sono entusiasti del tuo prodotto o servizio, che lo diffondono, lo comunicano ai loro amici e parenti e li invitano a venire nel tuo hotel. Questo è quello che succede nei parchi a tema Disney. Considera che l'85% dei clienti che frequentano i parchi a tema Disney ritornano allo stesso anno portando amici e parenti. Quindi immergiamoci subito nel piano di marketing innovativo basato sull'analisi di mercato professionale ispirato al modello imprenditoriale di Walt Disney. Il primo passo fondamentale è proprio l'analisi di mercato. Perché? Perché attraverso l'analisi di mercato potrai identificare un segmento di mercato al quale tu ti posizionerai come servizio unico. In questo modo, identificando questo segmento di mercato e offrendo un servizio unico, riuscirai a proporre un prezzo premium che il tuo cliente sarà disposto a pagare perché offrirai un servizio perfetto in funzione delle sue esigenze. La prima fase, che è l'analisi di mercato, si divide in tre sottofasi. La prima sottofase è l'analisi della domanda, cioè capire qual è la domanda di mercato. Chi ha bisogno del tuo hotel e bed and breakfast nella tua area geografica dove tu hai ubicato il tuo hotel. Per fare l'analisi della domanda ci sono diversi strumenti. Esempio, attraverso Google Trend riusciamo a capire qual è la domanda di mercato in una determinata area geografica, relativamente a hotel e bed and breakfast. Attraverso un altro strumento che si chiama Uber Suggest riusciamo a quantificarla questa domanda. E quindi riusciamo a capire quali sono i diversi segmenti di mercato. Poi è quello di andare ad analizzare la concorrenza. Qual è il valore che la concorrenza oggi sta offrendo sul mercato? Come si sta posizionando la concorrenza sul mercato? Ecco, attraverso l'analisi della concorrenza capiamo il valore che loro offrono perché attraverso l'analisi della domanda, cioè quantificando la domanda e quindi diversi segmenti di mercato, esempio segmento business, esempio segmento famiglie con bambini, esempio segmento coppie. Noi comprendiamo che ci sono diversi segmenti di mercato che hanno desideri, bisogni e aspettative diverse da un hotel e un bed and breakfast. Quindi capiamo che la cosa peggiore che ci può essere è quello di mettere questi segmenti all'interno dello stesso hotel. Perché? Perché nessuno sarà mai contento in quanto se prendiamo famiglie con bambini avranno bisogno di mangiare ad una certa ora, mentre le coppie vorranno fare colazione ad una certa ora. Capisci che è difficile creare clienti soddisfatti se metti all'interno dello stesso hotel persone che hanno esigenze, bisogni e desideri diversi. Quindi l'elemento centrale è proprio andare a capire attraverso l'analisi di mercato qual è il segmento di mercato più adatto per noi, più adatto in funzione delle nostre caratteristiche. Quindi analizzando la domanda riusciamo a capire quali sono i vari segmenti di mercato e iniziamo a capire quantificando questa domanda e quantificando ogni segmento di mercato quante persone stanno già cercando un hotel con certe caratteristiche nella tua città. Analizzando la concorrenza, come dicevamo prima, capiamo il valore che la concorrenza sta posizionando sul mercato. Attraverso queste due macro indicazioni, quindi qual è la domanda e quindi i segmenti della domanda e la quantificazione di questi segmenti, attraverso il posizionamento dei nostri concorrenti, quindi cosa fanno i nostri concorrenti e analizzando le nostre caratteristiche, quindi l'ubicazione del nostro hotel e soprattutto le nostre capacità che abbiamo noi di offrire un determinato servizio, possiamo creare un posizionamento nostro. Cioè scegliendo una nicchia di clienti, quindi un segmento di mercato, in funzione delle nostre caratteristiche, analizzando cosa fa la concorrenza per questa nicchia, capendo cosa questa nicchia vuole veramente, noi potremo creare una posizione, quindi un servizio unico che si differenzi dai nostri concorrenti e ci posizioni come scelta migliore per i nostri clienti. Questo avviene grazie all'analisi di mercato, perché analizzando i desideri dei nostri clienti, cioè andando ad intercettare esempio su Instagram qualcosa postano, cosa vogliono, cosa a loro piace, noi riusciremo a capire cosa veramente è il loro desiderio, quali sono i loro bisogni, quali sono le loro aspettative e noi forniremo un servizio e un posizionamento unico. Perché? Perché nel posizionamento definiremo chiaramente chi siamo e per chi siamo. Quindi siamo per famiglie con bambini, siamo per clienti business, siamo per coppie, per chi siamo. Ecco, nel modulo gratuito, che puoi scaricare qua e nel libro Overbooking, che ho scritto, spiego perfettamente come creare il tuo posizionamento. Ma perché è molto importante definire il tuo posizionamento? Perché nel momento in cui tu crei un posizionamento unico, crei un servizio per una nicchia di clienti specifica, la quale sarà disposta a pagare di più, perché si trova nel tuo hotel quello che sta veramente cercando e sarà contornata da altri ospiti che hanno le stesse esigenze e quindi di conseguenza sono persone simili. Se sei specializzato sulle famiglie per bambini, si troverà famiglie con bambini che hanno esigenze simili. Se sei specializzato per il settore business, si troverà clienti business con esigenze simili. E quindi saranno tutti più contenti, perché ricorda che l'obiettivo del piano di marketing è creare clienti referral, cioè clienti estremamente contenti che sono disposti a ritornare nel tuo hotel portando amici e parenti. Il primo elemento centrale è proprio quello di creare il tuo posizionamento, cioè il tuo valore unico, in funzione di una determinata nicchia di mercato. Analizzando ciò che fa la concorrenza e analizzando, entrando dentro la mente del tuo cliente target e capendo cosa lui veramente vuole. Quindi l'analisi di mercato, che è il punto centrale del piano di marketing, ha l'obiettivo di definire il tuo posizionamento per allontanarti dalla concorrenza e per invece creare un servizio che è specifico, è unico e perfetto in funzione di una determinata nicchia. E come fai a sapere cosa vuole quella determinata nicchia? Attraverso l'analisi di mercato, attraverso quello che dice, quello che sente, quello che posta, le immagini alle quali lui presta maggiore attenzione. Ecco, una volta che hai creato il tuo posizionamento, hai fatto l'analisi di mercato e quindi hai definito qual è il segmento che tu vuoi andare ad aggredire, cioè tu vuoi diventare leader, che ripeto, è un segmento che lo capisci attraverso l'analisi di mercato o attraverso l'analisi della domanda, perché analizzando la domanda di mercato capisci i vari segmenti, cioè chi sta cercando un hotel nella tua area geografica. Attraverso il posizionamento, chiaro, ecco che a quel punto bisogna lanciare il messaggio, cioè bisogna creare un messaggio talmente impattante che andrà a colpire chi? Il target, perché noi, il nostro obiettivo è quello di creare un servizio unico per un target che essendo un servizio talmente unico e perfetto per questo target è disposto a pagarlo di più a prezzi premium, perché il nostro obiettivo è creare un margine di contribuzione positivo, cioè creare margini che generano quindi utili, importanti per la nostra struttura. Quindi, una volta definito il nostro posizionamento, dobbiamo lavorare sulla creazione del messaggio, ma la creazione del messaggio sarà semplice una volta che è stata effettuata l'analyse di mercato, perché saremo entrati all'interno del nostro segmento di mercato e saremo entrati nella loro testa, capiremo cosa gli piace, cosa è importante per loro, quali sono le immagini che gli danno motivazioni, quali sono le loro parole calde e quindi il passo successivo sarà quello di creare che cosa? Creare un'esca e un amo per agganciarlo. Cioè un'esca che cos'è? Quel messaggio è un po' come andare a pesca, è quella pastura che lanci nel tuo messaggio per cui il cliente dice a cavolo mi interessa questa cosa qui. L'esca è ciò che io immetto sul mercato, quindi il messaggio iniziale per catturare l'attenzione del mio cliente e questo esca deve avere un amo, un amo che cos'è? Il gancio proprio, che lo tiene agganciato e l'amo e l'esca sono congegnali per poter attirare le persone all'interno della tua struttura. Quindi come creare un amo? L'amo è collegato a quello che dall'analisi di mercato si riscontra essere il problema maggiore del cliente. Quindi se il cliente business, esempio il suo problema maggiore dall'analisi di mercato, emerge che è quella di poter avere una saletta sua personale nell'hotel per poter lavorare o ottenere delle conferenze, ecco vorrà dire che l'esca e l'amo prevederà la possibilità di usufruire di una determinata saletta in certe condizioni in funzione di quello che è stato elaborato nell'analisi di mercato. Se invece esempio il nostro target, il nostro segmento che abbiamo definito e che vogliamo aggredire sono famiglie con bambini e abbiamo analizzato che le mamme che sono coloro che decidono fondamentalmente nell'acquisto di una vacanza per famiglie con bambini è molto importante per quel segmento che vogliamo aggredire avere una tata perché anche i genitori si vogliono rilassare, allora come esca offrirai la tata? Ecco capisci che l'esca per attirarlo dipende sempre dall'analisi di mercato, cioè da ciò che nella testa ha il tuo cliente, quali sono i suoi problemi. Nel momento che lui nel messaggio trova la risoluzione dei suoi problemi ne rimarrai agganciato e vorrà continuare a sapere di più. Quindi l'amo e l'esca ci serve per agganciarlo e portarlo dentro e quindi fagli leggere il nostro messaggio. Una volta che hai creato un'amo e un'esca, quindi l'hai agganciato, bisogna creare un'offerta irresistibile. Ma anche l'offerta irresistibile, che cos'è? L'offerta irresistibile è una proposta unica di valore e ti spiegherò nel modulo seguente scaricandolo e nel libro Overbooking che un'offerta irresistibile si basa attraverso la creazione di valore perché il tuo cliente non sta comprando una vacanza, sta comprando un valore da quella vacanza e il valore si sviluppa attraverso l'equazione del valore. L'equazione del valore ha quattro variabili. La prima variabile è il desiderio, cioè il desiderio che vuole raggiungere. Come faccio a sapere qual è il desiderio che vuole raggiungere il mio segmento di mercato? Attraverso un'analisi di mercato. Esempio, il desiderio potrebbe essere di una famiglia con bambine, dei genitori, di potersi rilassare. Il desiderio di un uomo o di una donna business potrebbe essere quello di potersi riposare. Bene, ok? Quindi come lo faccio a capire qual è il desiderio? Quindi la prima variabile dell'equazione del valore. Lo capisco sempre dall'analisi di mercato, perché dall'analisi di mercato capirò quello che il mio cliente veramente vuole, qual è il suo vero desiderio. Ok? Il desiderio lo devo moltiplicare, quindi il mio obiettivo è fargli raggiungere il desiderio al mio potenziale cliente, lo devo moltiplicare per la percentuale di sicurezza di raggiungerlo. Cioè le persone dicono, sì, tu mi fai rilassare, tu mi fai riposare bene, ok? Il mio target potrebbe pensare. Benissimo, ma come posso essere sicuro che veramente io ottengo e soddisfo il mio desiderio nel tuo hotel? Ecco, la percentuale di sicurezza viene da che cosa? Dalle recensioni che il cliente nota sul mercato. Cioè se ci sono mille recensioni di clienti business che dicono all'interno del tuo hotel mi sono rilassato veramente e ho dormito perfettamente bene, ecco che quelle mille recensioni servono per creare, rafforzare questa seconda equazione della variabile del valore. Ecco l'importanza di avere recensioni positive. Le recensioni positive confermano che all'interno del tuo hotel il cliente può raggiungere il desiderio che lui vuole ottenere. Diviso che cosa? Nella parte bassa dell'equazione del valore devi considerare il tempo, quindi il tempo per raggiungere quel desiderio, per la sofferenza nel raggiungere quel desiderio. Facciamo un esempio. Se il desiderio è quello di rilassarsi, ok? e prendiamo un elemento che è il check-in per entrare nel tuo hotel e il check-in dura molto tempo perché c'è la coda nel momento di punta, ecco che il cliente non si rilassa velocemente, ok? Quindi mettere un fast check-in per cui il cliente arriva con un QR code, può andare in camera o in spiaggia, ecco che lo aiuta a raggiungere il suo desiderio di rilassarsi con meno sforzo. Quindi le due variabili ti permetto di, nel mio hotel, e questo rappresenta il posizionamento, nel mio hotel ti faccio raggiungere il tuo desiderio, che ho strappolato all'analisi di mercato, ti dimostro con le recensioni che tanti altri clienti hanno raggiunto questo desiderio nel mio hotel, in meno tempo, con meno sforzo. Questa è la creazione di una proposta unica di valore che ti differenzia dai tuoi concorrenti e ti permette di attirare clienti premium, alto spendenti. Una volta che hai creato questa offerta unica, ripeto sempre grazie all'analisi di mercato, considerando le variabili dell'equazione del valore, a questo punto vanno create campagne Facebook e campagne Google come vengono create. Cosa scrivere nelle campagne Facebook, nelle campagne Google o nelle newsletter? I contenuti devono venire sempre dall'analisi di mercato, da ciò che il cliente vuole, ciò che per il cliente è importante, in funzione di ciò che sono i suoi desideri, in funzione delle immagini che lui piacciono, dei video che gli piacciono, quindi creerò contenuti per i social, Facebook, Google, newsletter, TikTok, che sono allineati al mio target perché li ho estrapolati all'analisi di mercato. Una volta che ho lanciato le campagne, ti consiglio di creare il tuo processo di vendita attraverso un processo di vendita telefonica. Lavorando con diversi hotel ho notato che molti venditori si trovano molto bene a rispondere alle mail di richiesta dei clienti senza usare il telefono. Usando il telefono le percentuali portano ad un incremento del 200% del tasso di conversione perché il tuo obiettivo è incrementare il tasso di conversione in quanto ti costa acquisire clienti facendo campagne sui social. Quindi se converti più richieste abbasserai il costo di acquisizione clienti. Nella vendita telefonica ci sono due canali fondamentali della comunicazione, il tono della voce e le parole che utilizzi. E nel libro Overbooking e nel modulo sotto che ti consiglio di scaricare del piano di marketing spiego tutte le fasi della vendita. Cioè la prima fase della vendita riguarda lo stato d'animo in cui è il venditore. Se il venditore è uno stato d'animo potenziante riuscirà ad avere una comunicazione positiva col cliente. Ci sono venditori che si apprestano alla telefonata e sono uno stato d'animo depotenziante quindi la vendita non si chiuderà in maniera positiva. E spiego come entrare in uno stato d'animo potenziante. La seconda fase della vendita sono i primi tre secondi. I primi tre secondi sono importantissimi per creare rapport e per poter creare quella fiducia col cliente. E perché i primi tre secondi funzionano bene vuol dire che devi essere in uno stato d'animo potenziante. La terza fase è la creazione del rapport cioè entrare in relazione col cliente e come lo si fa? Attraverso l'utilizzo del tono della voce come spiego nel modulo e nel libro Overbooking. La quarta fase prevede la fase di estrapolazione del pain cioè del dolore del cliente cioè capire ciò che è importante per lui per il cliente col quale siamo al telefono. La quinta fase prevede il fatto di fare una nostra offerta proposta e come faremo la nostra offerta proposta? Basandoci proprio su quello che è il dolore del nostro cliente le sue parole calde che abbiamo estrapolato nella telefonata e presentandogli la nostra proposta unica di valore la nostra offerta. La sesta fase prevede la chiusura quindi test di chiusura e quando la chiusura non ha buon effetto c'è la settima fase che è la gestione del looping cioè come gestire le obiezioni. Tutte queste fasi le trovi nel modulo qui sotto e in maniera approfondita nel libro Overbooking. L'obiettivo della telefonata qual è? Quello di incrementare il tasso di conversione per ridurre il costo di acquisizione clienti. Grazie alla telefonata professionale avrai delle vendite e i tuoi clienti saranno pronti per entrare nel tuo hotel ma a questo punto dovrai creare che cosa? Uno staff, un team di professionisti e di persone motivate. E uno degli aspetti più importanti per gli imprenditori nel settore alberghiero è trovare professionisti e soprattutto come valutare la professionalità dei collaboratori. Ecco, uno degli aspetti interessanti che ho notato collaborando con diversi hotel è che vanno a reclutare personale esterno fuori dalla propria area geografica fuori dai 40 km, 30 km e quindi cosa devono trovarli? Poi il pernottamento quindi dove li mettono a dormire queste persone? Ti spiegherò come selezionare e motivare i talenti e trovarli in un'area geografica di 30 km cosicché non dovrai avere il problema del pernotto di queste persone e soprattutto ti spiegherò il modello di selezione e motivazione utilizzato da Walt Disney perché quando ti capitano dei candidati quando hai dei candidati di fronte a te e non hai un modello di selezione professionale non riesci a valutare se quella persona è adatta per il ruolo che stai cercando. Quindi ti spiegherò sempre nel modulo e nel libro Overbooking come selezionare e motivare i tuoi collaboratori in stile Walt Disney e soprattutto come trovarli in un raggio di 30 km senza dover assumere persone che vengono da fuori e quindi li devi trovare anche dove dormire. Una volta che hai creato il tuo team a questo punto arrivano gli ospiti all'interno del tuo hotel. L'obiettivo è quello di creare uno spettacolo perfetto in stile Disney. Il tuo obiettivo è quello di creare dei clienti che sono talmente entusiasti che ne parlano con amici e parenti e soprattutto ritornano con loro. Come fai per creare uno spettacolo perfetto? Ecco qui ti spiego delle strategie ti spiego le strategie sviluppate da Walt Disney per creare uno spettacolo perfetto. Una su tutte, la più importante, è quella che in Walt Disney tutti i collaboratori vengono chiamati attori del cast perché per Walt Disney ogni giorno era la recitazione di uno spettacolo quindi aveva bisogno di attori del cast e non di collaboratori o dipendenti. Infatti anche la selezione del personale in Disney non si chiama selezione del personale ma si chiama audizione proprio in stile cinematografico. Quindi l'obiettivo fondamentale per creare uno spettacolo perfetto è capire che stiamo recitando uno spettacolo nel nostro hotel e noi siamo gli attori protagonisti e i nostri clienti e il pubblico e ci valuterà in funzione delle performance. Quindi è importante avere delle procedure strutturate e organizzate per creare uno spettacolo perfetto. In Disney ogni azione è una procedura maniacale per creare un'esperienza positiva nei propri clienti. L'obiettivo della creazione dello spettacolo perfetto è l'ultima fase fondamentale è proprio quello della creazione di clienti referral e puoi creare una campagna nel tuo hotel di clienti referral che attraverso determinati materiali di marketing che ti spiego nel modulo sempre e nel libro per booking da poter diffondere ai tuoi clienti che sono entusiasti del tuo prodotto bar a servizio che loro possono diffondere i loro amici e parenti per far sì che i loro amici e parenti vengano nel tuo hotel e questo a costi di acquisizione molto basso. L'obiettivo del piano di marketing innovativo grazie all'analyse di mercato professionale ispirato al modello imprenditoriale di Walt Disney è quello di riempire il tuo hotel con clienti altospendenti di un determinato segmento di mercato che sono disposti a pagare un prezzo premium perché tu gli offri un servizio unico differente della concorrenza. Questo ti permetterà di avere costi di acquisizione clienti più bassi ti permetterà di evitare di avere le OTA perché sarai organizzato in funzione di tue campagne sviluppate sull'analisi di mercato che avrai effettuato ti permetterà quindi di avere dei margini di contribuzione più alti e utili più profittevoli. Questo è l'obiettivo del piano di marketing innovativo ispirato al modello imprenditoriale di Walt Disney grazie all'analisi di mercato professionale. Qui sotto scarica il modello gratuito e il libro Overbooking spiego il modello completo. Ti ringrazio per l'attenzione se ti è piaciuto questo video metti un like e diffondilo alle persone che ne possono essere interessate. Io intanto ti ringrazio e ti saluto e a presto. Ciao!